E' la prima volta che Ombretta Guerrini entra nella casa che le ha segnato il Comune di Firenze ed è visibilmente emozionata. E' una grande gioia, una delle cose più belle che mi capita da fare come sindaco perché riguarda proprio il cuore delle persone e un tema sentitissimo che è quello dell'emergenza abitativa. Oggi andiamo a consegnare altri 10 alloggi grazie al contributo dell'azienda Menarini che già da 4 anni mi ha messo in campo risorse per ristrutturare alloggi. Arriviamo con oggi alla consegna di 40 alloggi. 40 persone con bambini, anziani, persone che stanno più o meno bene, che oggi stanno negli alloggi ristrutturati da noi, ci dà tanta soddisfazione. Con chi vivrà in questa casa? Con mio figlio, mia figlia e mio nepotino. Se Firenze sta meglio di tante altre città, comunque non può trascurare problemi che tuttavia esistono perché abbiamo tante famiglie in lista d'attesa per avere un alloggio. Per questo ci siamo dati un obiettivo ambizioso, quello di arrivare entro il 2019 con mille nuovi alloggi consegnati e quindi l'apporto di Menarini è fondamentale. Credo sia un contributo che resta nel tempo e che è sensibile per chi ne beneficia. Grazie. 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 Grazie.